Sono serviti sette anni alla farma Eviareggio per rivincere lo scudetto di beach soccer dopo quello del 2016 a chiusura del leggendario triplete. Questo se possibile è ancora più bello perché conquistato domenica in casa al beach stadium e titolato a Matteo Valenti. L'inizio è la ragione di tutto. I bianconeri hanno superato 9 a 2 il Catania BS. La traduzione in cifra di una superiorità in discussione solo a tratti di fronte a un migliaio di spettatori che sono stati l'uomo in più. Carpita e Zelucas con una doppietta ciascuno, Bertacca eletto miglior giocatore del campionato, Leo Martins, Petracci, Remedi e Fazzini segnano le reti che valgono un titolo meritato per il percorso di crescita compiuto in questa stagione. La società vede premiata la scelta di aver affidato la panchina a Francesco Corosiniti, vincitore al primo anno da allenatore, con Stefano Santini figura chiave nel ruolo di responsabile tecnico. E adesso fra pochi giorni l'Under 20 cercherà di difendere i due campionati vinti nelle ultime due edizioni giocando come la prima squadra al Matteo Valenti sul bagno Flora di Viareggio.